Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta. Fast and Furious, il film so accurately, depicta questo mondo. Non abbiamo visto questa cultura in film. È un mondo cool. Mi piacerebbe essere parte di questo per molto tempo. Con questa casta è davvero eclectica in termini di tutti hanno la sua qualità per portare. Ok, ok, ok! Accendiamo i motori! Via! La cosa più importante saranno sempre le persone presenti qua dentro. Come ora. Correre o morire, ricordi? Sì! Ah, ora sì che ci capiamo. Oh, sì! Non fatevi salire in auto. Non si arrendono mai, eh? Salute, famiglia. La vita è buona. È fast now. La cose che succedono in questo film sono come, ok, wait a minute. Questo è un cambiamento per sicuro. Fast fans ho capito che eravamo capire che eravamo capire le esperienze con ogni ogni chapter. Anche con questo, non ho capito. Non ho capito. difficile corollano nei finali... Ma sceapare l'intervento po' Che... che si tro Ce...